Centinaia di giovani accorsi da tutta Italia per partecipare ad una rave party non autorizzato all'interno di una casolare di Marciano della Chiana. Questo quanto scoperto alle prime luci dell'alba dai carabinieri intervenuti a seguito di alcune segnalazioni da parte di residenti. Tonfano, buh, 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 buh. Ma quando? La sera dell'ultimo dell'anno e poi anche ieri, anche stanotte. Circa 300 le persone identificate questa mattina dai carabinieri intervenuti nel capannone di smesso che si trova a fianco della discoteca Crocodile dove dalla notte di San Silvestro era in corso un rave totalmente illegale. Cosa sentivate? Niente delle cose, sentiva solo questo boom, 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 boom. L'allarme era scattato quando le centinaia di persone si erano date appuntamento nel capannone della Val di Chiana. Alcuni residenti allarmati avevano così chiamato i carabinieri. Il raid party sarebbe risultato irregolare senza alcuna autorizzazione. Stamani è scattato il blitz dei carabinieri. In azione i militari della compagnia di Cortona, delle stazioni di Lucignano, Monte San Savino, Castiglion, Fiorentino e Rigutino per alcuni accertamenti. I militari questa mattina non sono entrati all'interno dell'immobile ma hanno impedito che potessero entrarvici altre persone realizzando un po' solo il blocco lungo la strada d'accesso identificando così alcuni partecipanti. All'interno dello stabilimento questa mattina si trovavano ancora alcune decine di persone. Ora sono in corso accertamenti da parte dei militari che stanno cercando di risalire agli organizzatori e valutare poi eventuali provvedimenti.